Cominciamo con la recensione di Spyra, l'eredità di So. Fin del 2021, anch'esso doveva uscire al cinema all'inizio dell'anno, stroncato perché c'è stata la pandemia, finalmente arriva al cinema, finalmente si va al cinema, la gente va al cinema, siamo tutti felici. Il film, adesso mi metto anche due appunti perché sennò poi mi dimentico, nasce perché il buon Chris Rock, che sapete essere un comico, molto famoso, pare che sia un fan della saga, che sia conclusa con Soul Legacy, che è questo qua, scusate se davanti qua c'è un pezzettino di adesivo, Soul Legacy, insomma, come sapete gli ultimi So sono sempre pe, ma questo accade a tutte le saghe, accade alla saga di Halloween, accade alla saga di Omen, tutte le saghe iniziano bene e finiscono male, si sa, perché spremono fino all'ultimo tutto quello che c'è da spremere. Chris Rock era ossessionato dal fare un film su So, voleva riportarlo ai fasti di un tempo, voleva rinvigorire il mito dell'enigmista? Boh, sì, cioè questo era il suo intento. Per fare ciò, vabbè, intanto si è messo lui come attore protagonista, dove interpreta un detective, e poi assume, hanno assunto, insomma, la produzione del film, assume Darren Lynn Busman, che non è proprio un regista qualunque, perché esso è il regista, scusate mi apro perché c'è una sfilza di nomi che vi voglio leggere, di titoli, è un regista che ha già lavorato per So, ha diretto So 2, So 3, So 4, in più ha fatto un botto di horror, perché ha fatto anche altri film che non conosco, che non ho visto, che sono The Devil's Carnival, Ripo, The Genetic Opera, Mother's Day, Eleven Eleven Eleven, e Dead of Me. Ed è già stato scelto per dirigere un nuovo film sulle cose infestate, diciamo, case infestate, famiglie infestate, bambole infestate, non si sa, penso case infestate, che si chiama La Lory Mansion, ed è dai produttori di The Conjuring, quindi sarà il nuovo tormentone per i congiuriani, fondamentalmente. Quindi, lui comunque è un mestierante capace, e nell'horror ci sguazza, quindi è stato preso lui, e questo sicuramente è un aspetto positivo di tutto questo film. Visto solo So 2, ciao Sara. Io li ho visti tutti, ma non me li ricordo. Mi ricordo un po' So Legacy, perché l'ho visto, è l'ultimo che ho visto al cinema, all'anteprima stampa, che in America, tra l'altro, il film era intitolato Jigsaw, come il personaggio, sì, cioè come Jigsaw dovrebbe essere l'enigmista. Vi dico un attimo la trama del film. Anzi, torniamo a Chris Rock. Chris Rock ha deciso di fare questo film, l'ha rilanciato e si è messo come protagonista. La storia racconta, diciamo, il protagonista è questo detective, Zeke Banks, che non se la passa troppo bene nel dipartimento di polizia dove lavora, dipartimento che era gestito da suo padre prima, interpretato da Samuel L. Jackson, e un'altra collega di suo padre, che attualmente è la capa del dipartimento. Gli altri poliziotti non lo vedono di buon occhio, perché lui ha denunciato il suo ex compagno di collega, poliziotto, che ha fatto qualcosa di brutto. Come vedete, non vi spoilero nulla. In questo clima di merda, si può dire, iniziano una serie di omicidi che vedono coinvolti proprio dei poliziotti. E ovviamente gli viene affidato il caso e gli arrivano dei pacchi. Gli arrivano dei pacchi con dei regalini, che non vi dico cosa sono. L'intento dichiarato da Chris Rock che era riportare i fasti di un tempo alla saga dell'Enigmista, la mia recensione inizia qua. Secondo me, l'obiettivo è stato mancato bellamente. Cioè, è stato mancato di brutto, perché... Ora vediamo il perché. Intanto non si capiva bene se questo fosse un reboot o un sequel o qualcos'altro. In realtà, se vogliamo essere proprio sinceri, questo è un sequel. Nel senso che i fatti che vediamo si svolgono dopo la morte di... Ovviamente c'è questa parte, questa recensione è spoiler per chi, insomma, ha visto, cioè per chi ha già visto tutto, per chi non ha visto tutti gli altri so. La morte di John Kramer. Questo film non prevede la presenza di John Kramer. È stato ufficialmente detto, quindi non è uno spoiler. è una cosa risaputa, diciamo. E non c'è neanche il personaggio caratteristico che si chiama, per chi non lo sapesse, Billy, questo pupazzo con delle spirali sulle guance disegnate che va sul triciclo. un po' pazzo, un po' un po' trash, però comunque che è riuscito a conquistare i fan, è riuscito a piacere ai fan dell'horror. Billy non ci sarà, viene sostituito da un altro personaggio che è un maiale, si vede nel trailer, un maiale burattino vestito da poliziotto. Insomma, c'è il discorso della polizia. scoprirete poi che cosa c'è dietro queste scelte. Quindi vengono abbandonate un po' di cose, però ci si augura che gli aspetti importanti del film vengano ripresi, rielaborati e riproposti in qualche maniera moderna. Purtroppo questo non accade. Il film è diretto abbastanza bene, anche se qualche strafalcione c'è un esempio lampante è un uso dei flashback non so se vi è mai capitato di vedere dei flashback di cose che avete visto 5 minuti prima e vi viene da dire ma che pro le ho appena viste queste cose non è che me le sono dimenticate. Ecco, io credo siccome il film è un film ambientato negli anni insomma adesso non ho capito bene in che anni è ambientato però vuole essere un po' retro nell'ambientazione forse anche questa scelta di fare questo flashback un po' fuori luogo sembra quasi una scelta stilistica ma sinceramente l'ho trovata veramente una caduta di stile incredibile. Al di là di questo piccolo errore e altre piccole cose il film è diretto abbastanza bene nel senso con mestiere il regista è capace quello che non mi è piaciuto e secondo me è del tutto far diventare la sceneggiatura la sceneggiatura prevede innanzitutto un approfondimento abbastanza forte dei personaggi quindi il detective un altro personaggio che subentrerà non vi dico tutto così almeno rimaniamo sul vago il padre i colleghi tutte le vicende che sono accadute in questo diciamo in questo dipartimento di polizia e che hanno fatto sì che il clima fosse questo in cui il detective Banks comunque è odiato da altri colleghi c'è un problema di corruzione eccetera purtroppo Chris Rock nell'interpretare questo personaggio va in overacting pazzesco cioè proprio sembra quasi forzare la mano perché essendo lui un comico forse ha paura di essere troppo leggero e quindi poi alla fine risulta veramente un personaggio caricaturato troppo troppo esagerato nella recitazione nel nel modo in cui viene proposto l'altro problema della sceneggiatura sono diciamo gli accadimenti che temevo che avrebbe reagito così e questa è una cosa che molti hanno cioè potevano diciamo insospettirsi su questa cosa e intuirla in effetti anche io ho pensato beh vediamo come come si butta in questa cosa e sicuramente lì ci deve essere stato chiamiamolo ansia da prestazione ma la volontà di spazzare via una una sua identità da comico forse esagerando ecco secondo me non era necessario andare oltre poi quando guarderete il film darete la vostra opinione chiaramente dipende anche dalla vostra anche soggettivamente come come preferite la recitazione qua è molto forzata ci sono anche tutta una serie di accadimenti che sono estremamente dei cliché come la morte di un collega il desiderio di vendetta i pacchi anonimi che arrivano a lui adesso ve la dico così per non farvi ricostruire la storia però ci sono proprio tutta una serie di cliché nella trama che sono veramente molto molto banali e già visti soprattutto per chi conosce So e altri film su questo genere che potrebbero essere come Seven o altri film insomma thriller polizieschi di questo genere quindi veramente tutto risulta molto stucchevole questo tipo di narrazione un po' stucchevole un po' così la si può tollerare nel caso in cui fosse un trucco un modo per camuffare un grande twist un grande colpo di scena ma così purtroppo non è quello che vi devo dire è che purtroppo da soli gran parte di voi io direi un buon 90% di voi capirà dopo mezz'ora chi è cos'è perché insomma capirete il twist e quello che succederà dopo sarà aspettare stancamente la realizzazione la conferma di quello che avrete pensato e questo io lo trovo il primo grande flop della pellicola perché se c'è una cosa che ha caratterizzato tantissimo solo l'enigmista diretto da James Wan è proprio il meraviglioso colpo di scena finale molto divertente e con il tipico stile James Wan che rivediamo riproposto in per esempio Dead Silence Dead Silence ha lo stesso tipo di stile nel svelare poi il colpo di scena finale lo spiegone però lo spiegone è estremamente divertente sia in su ed è estremamente forse l'unica cosa che io salvo di Dead Silence è lo spiegone finale montato ad arte con queste musiche incalzanti esaltanti quindi non so se vi ricordate lo spiegone di So è veramente molto bello John Kramer si toglie il trucco sembrava essere insomma non vi sto a spoilerare il primo che magari qualcuno qua non ha neanche visto il primo So quindi purtroppo capirete che cosa accade e questo insomma è il primo grande flop della pellicola no se mi dici taci sto zitto capisco che è un modo di dire taci che però se poi mi dici taci sto zitto comunque un altro problema della pellicola è che viene tradito lo spirito di So lo spirito della sceneggiatura originale in che senso viene tradito? voi sapete benissimo se conoscete So che John Kramer e qua è spoiler per chi non ha visto So l'enigmista quindi tappatevi le orecchie e basta John Kramer è malato ha una malattia terminale rimango sul vago e proprio per questa ragione scopre diciamo rivaluta il dono della vita ne capisce il valore e in un delirio di onnipotenza si autoilegge Dio in terra e decide di punire o dare una seconda chance alle persone che non sanno rispettare questo dono fantastico in questo tipo di lettura c'è molta spiritualità c'è molta megalomania qualcosa di delirante ma io credo che sia anche il fascino di questa di questa pellicola perché quando noi sentiamo John Kramer con la voce di So tutta un po' distorta così un po' bassa lo sentiamo parlare di dono della vita e di di come viene sprecata dalle persone di come in realtà ci viene da dire in effetti c'è ragione in un certo senso sono un po' le modalità che lui sceglie che sono fin troppo estreme quello che invece troviamo in questo film è uno spirito diverso uno spirito di vendetta e questo spirito di vendetta è perpetrato non su persone che non hanno commesso cioè in So le persone vengono messe in queste diciamo trappole in queste marchi ingegni non solo se si sono comportate estremamente male ma anche per cose diciamo non così capitali insomma che meritano la pena capitale ecco mentre invece in questo nuovo in questo nuovo film stiamo parlando di vendetta verso persone cattive che hanno commesso cose deprecabili quindi sinceramente si va a perdere un po' quello che è secondo me il fascino appunto spirituale della prima particola il delirio di quest'uomo che si erge a Dio e quindi secondo me non riesce a riconoscere lo spirito della storia in questo sequel reboot perché poi è quello che è perché è un reboot perché il villain non è John Kramer in quanto defunto ma qualcos'altro qualcun altro io rimango sul vago per non spoilerare quindi cosa accadrà ci sarà una lunga serie di film che non finiranno mai su questa saga ma io quando ho visto quando ho visto la pellicola in anteprima l'altro giorno ho pensato ma sinceramente io non credo che i fan di So siano molto contenti di questa nuova pellicola e di come che strada della strada che è stata scelta per la storia per il plot e quindi ho pensato ma non faranno non potranno fare un seguito se guardano l'andamento di questo film in realtà non sapevo perché me l'ero perso che il il seguito il 2 è già in lavorazione quindi siamo arrivati in un'industria cinematografica che se ne strasbatte se un prodotto piace o non piace funziona a successo ma semplicemente fanno direttamente il 2 il 3 e vanno avanti come The Caterpillar e se ne fregano sfruttando il nome di una saga così importante per i fan dell'horror So è un film che è veramente piaciuto anche a quelli che hanno il palato ultra sopraffino cioè comunque è un film piacevole con una storia abbastanza originale quindi secondo me Spiral non è riuscito a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato cioè quello di riportare con tutto il suo potenziale nell'era moderna perché ormai sono passati veramente tanti anni e quindi diciamo che secondo me è un film che deluderà i fan di So ma è comunque un film piacevole è comunque un film piacevole nel senso che è diretto abbastanza bene la fotografia è bella è abbastanza gradevole e soprattutto ecco forse l'unica cosa che veramente non tradisce lo spirito di So sono le scene Gore Splatter le scene Gore Splatter di questo film le ho apprezzate parecchio perché non si autocensurano il film non si vuole assolutamente nascondere dietro un dito quindi diciamo camuffare certe cose ci saranno veramente un sacco di carne maciullata ce ne saranno insomma ci saranno non un sacco però ci saranno delle scene di sbudellamenti amputazioni spellamenti di ogni il dovuto insomma niente di esagerato però ecco in questo quantomeno essendo So una saga violenta una storia violenta in questo Spiral non tradisce le aspettative e mostra delle morti piuttosto interessanti per chi è amante del genere Gore Splatter quello che secondo me non è particolarmente riuscito sono i marchi ingegni non li ho trovati assolutamente geniali come appunto sono di solito ciò che caratterizza la saga di So è proprio l'originalità la genialità dei marchi ingegni che sono messi lì per giustiziare alla fine le le vittime con questo concludo la recensione diciamo ufficiale e poi veniamo anche alle domande se ne avete credo di aver detto più o meno tutto ecco poi ci sono delle cose un po' buffe che vi racconto più tardi che calor però il buon Gonz si è portato qua il telecomando del ah ecco perché fa caldo mother father perché non è su aria condizionata ma è su di umidifica questa stanza sta diventando come una trappola di sodo dove la temperatura aumenta finché non confesserò i miei peccati e non mi pentirò allora ragazzi io spero che questa recensione non sia stata troppo spoiler non credo vi consiglio comunque se siete degli onnivori di horror con non tanta puzza sotto il naso andatelo comunque a vedere perché comunque andare al cinema è sempre bello e il film non è così pessimo da dire non lo vado a vedere ho buttato i soldi no è un film piacevole con delle cose divertenti anche magari involontariamente ma scusa ma Thomas hai sospeso Sara va bene ragazzi allora mentre mi riprendo un attimo vi racconto un po' chi c'è chi c'è in chat salutatemi quello che sono le attività a seguire allora più tardi vabbè condividerò questa live ma voi siete qua quindi ve la siete già vista siete contenti spero farò anche la recensione scritta che più o meno è quello che ho detto oggi ma magari messo giù in forma un po' più comprensibile spero giovedì prossimo il 24 farò una live con Daniele Marinelli dovete esserci assolutamente mi raccomando sai che allora non ho sentito gli appassionati di So che hanno visto il film perché semplicemente perché il film esce oggi quindi pochi l'hanno visto nel senso che l'hanno visto quelli come me che l'hanno visto all'antiprima stampa e poi quelli che l'hanno visto pirata che sinceramente non mi interessa cosa ne pensano quindi non ho ancora il risponso del pubblico generalista sia che siano fan di allora non ho una dichiarazione ufficiale da cui attingere sul fatto che ci sarà o meno Chris Rock ma ti dico che ci sarà in quanto secondo me ci sarà per come si svolge il film è un per me è un'operazione estremamente commerciale davvero priva di qualsiasi intento artistico perché è stato troppo snaturato diciamo lo stile della saga è stato troppo snaturato ed è non è stato portato niente di nuovo e niente di moderna questa è veramente una grande delusione perché ci si riempie tanto la bocca di facciamo qua facciamo là ma poi alla fine hai preso una storia e l'hai impoverita ancora di più rispetto a quello che hanno fatto i sequel perché anche i sequel fondamentalmente marciano sull'idea originale fino ad esaurirla in maniera reiterata e cinica e qui è stata fatta la stessa cosa io vedo questo film come un ennesimo sequel ma infatti guarda ti dico il gran guignol non so se preferisci ti chiami così oppure Mirko non è un film spiacevole ma è come se fosse un ennesimo sequel di So con purtroppo tanti aspetti che non hanno quella forza comunque è l'unica saga coerente con se stessa per il poco che la ricordo mi sento d'accordo con te sicuramente avendo io visto da poco la saga di Halloween tutta intera di fila dove veramente c'è un delirio sono delle cose deliranti ma lo stesso Michael Myers cambia e diventa non vorrei spoilerare alcuni aspetti che voglio di cui voglio parlare della saga di Halloween nella live apposta che farò ve lo prometto però insomma anche anche Michael Myers nell'arco degli otto film facente parte della saga ufficiale passa dall'essere un tizio tenebroso e silenzioso a un palestrato che si cala dall'alto con un braccio solo cioè e lo fa ripetutamente quindi cambia il carattere cambia la camminata cambia la costruzione la corporatura cambiano il modus operandi cambia tutto insomma ognuno arriva ci mette il suo quindi sono d'accordo che per una saga sia importante anche rispettare certi certe certe linee guida poi chiaramente se uno lo dichiara ufficialmente dice guarda io faccio uno spin off di Halloween diverso o di solo diverso che dove ribalto tutto ok ma se ribalti tutto e porti qualcosa di nuovo va bene e ci sta ci divertiamo magari ne nasce qualcosa di buono magari non ne nasce niente finita lì ma se tu stancamente riproponi la solita storia come accade per Spiral e non succede niente e mi hai tolto pure gli elementi più fighi del film io non lo so che cosa rimarrà poi detto ciò io ho visto e ho avuto la fortuna vedendole in anteprima stampa l'ho visto in lingua originale con i sottotitoli e è abbastanza piacevole una recitazione che comunque non è chissà che è una recitazione appena sufficiente dove comunque la voce dell'enigmista che vediamo anche nel trailer guardatevi il trailer in lingua originale è decisamente migliore della voce che io ho visto in italiano dell'enigmista nel trailer che addirittura avevo detto in una reaction che secondo me sarebbero avrebbero fatto marcia indietro su quella voce perché era inascoltabile quindi io auspicavo comunque profetizzavo che avrebbero rivisto quel doppiaggio lì perché la voce dell'enigmista quella tramite le registrazioni non è non era buona in italiano mentre l'inglese è abbastanza piacevole una voce ambigua non è più molto bassa come nel vecchio però è una voce ambigua un po' pazzoide quindi in qualche modo caratteristica è intrigante la voce della marionetta sì sì è quella la voce della marionetta appunto ho finito adesso di dirlo in inglese è abbastanza piacevole non stona ci sono anche delle assurdità incredibili nel film come ad esempio i luoghi in cui verranno inserite i marchi ingegni ecco tenete presente che in alcuni casi sono luoghi improbabilissimi improbabilissimi che vi faranno cascare i coglioni perché vi verrà da dire ma no ma lì non è possibile e quindi l'ho trovato abbastanza ingenuo in queste scelte il film c'è una scena c'è una scena dove ha la sega in mano che chiunque conosce adesso sa benissimo che è una citazione è una citazione ma vi giuro che rimarrete molto male quando vedete questa citazione perché vi deluderà sotto ogni aspetto cioè sarà deludente sia in quello che accadrà e sia per la stupidità di quello che accadrà veramente è un peccato perché se poteva vincere in qualcosa era nelle citazioni nel nel fanservice poteva essere molto più fanservice e in qualche modo almeno coccolarsi i fan della serie invece anche in questo è stato deludente secondo me il film poi vi dico una cosa che secondo me se la se non ve la allora non è uno spoiler della storia quindi state tranquillissimi se non ve la dico ridete comunque ma se ve la dico ridete il triplo quindi io ve la dico c'è una scena dove lui compra del cibo da asporto il ristorante sto male il ristorante il ristorante adesso ve lo dico il ristorante dove compra questo cibo da asporto statemi bene a sentire con due s a sentire si chiama Terroni si chiama esiste veramente in America un ristorante che si chiama Terroni ovviamente chi l'ha aperto ha voluto giocare con con il nome Terroni in maniera buonaria non come insulto ma siccome il detective si presenterà con questo pacchettino con scritto Terroni io non lo so gli altri non hanno riso ve lo dico ma io io nella sala io che ridevo proprio sguaiato ma non perché io abbia qualcosa contro contro i Terroni ma semplicemente perché è una è considerato un insulto cioè è considerato un insulto in Italia giustamente o non giustamente cioè è considerato un insulto quindi vabbè un americano non ci fa caso perché penserà che Terrone significa persona italiana che abita nel sud Italia ma non penserà che può essere inteso come un insulto quindi quando un americano verrà qua potrebbe anche dire a uno Terrone e se questo non capisce gli da due sberle quindi quindi nella serietà della scena se sei americano non ti distoglie dall'attenzione e te lo guardi dici vabbè tanto Terrone non vuol dire niente per me ma per un italiano che si vede la scena seria arriva a sto pacco con una scritta gigantesca sul pacco scritto Terrone e per me è stato un momento esilarante dove ho veramente riso ad alta voce come un pazzo vabbè anche perché non conoscevo cioè in realtà lo conoscevo però non mi ricordavo al momento è stato abbastanza esilarante comunque questo chiaramente non intacca il film è una stupidata il cibo poi tra l'altro sarà anche buono perché io sono andato a guardare il ristorante c'ha anche un sacco di feedback positivi sarà un posto famoso tra l'altro in America dove mangiare cibo italiano però insomma mi ha fatto ridere non è questo il problema ci sta anzi per fortuna c'è qualcosa che ti diverte nel film però insomma non non funziona secondo me questa pellicola sarà veramente un grosso problema andare a vedere il sequel sarà veramente un grosso problema perché oltretutto se lo stanno già girando l'hanno già scritto e se l'hanno scritto con questa modalità qua con questo piglio veramente cioè che cosa andremo a vedere cosa andremo a vedere non lo so speriamo non ti invitino al sequel ma allora chiaramente una persona chiaramente sì cioè non è no io spero che continuino a invitarmi alle anteprime perché mi fa piacere poter trattare sia film commerciali che d'autore come ho detto sempre io non sono snob e il film ripeto il film è abbastanza è abbastanza fruibile senza starci male ecco non è non stiamo di fronte a un film orripilante stiamo di fronte a un film a un film che è confezionato bene ma che poi purtroppo fa degli errori che più che altro crea delle aspettative che poi non vengono ripagate cosa ci spenderemo dal sequel non lo so questo abbattuto l'abbiamo già esaurito ormai direi e niente ragazzi qua io direi che qua finisce la recensione di So e le domande su So poi se volete farne in seguito continuate a farne a Grazie a tutti